Ogni spicchio ha un punteggio, è il massimo, attenzione, perché è prendere il centro, cioè i 50 punti Ebbene sì, lo possiamo dire, ufficialmente è il gioco dell'anno Tutti possono partecipare, grandi, piccini, alti, bassi, l'importante è avere una grande passione per lo sport, in questo caso per il calcio Avete visto com'è semplice? Si passa dal gioco delle freccette a questi amici che ci passano davanti a un gioco unico ed esclusivo Signori, FootDarts Grazie a tutti